Manuela Fogliero, ospite di Cortina Incontra per questa serata tutta dedicata al cibo e ha scritto recentemente questo libro I bellissimi in cucina, ce ne puoi parlare? Sì, intanto sono molto contenta di essere qui, ero stata qua un 7-8 anni fa accompagnando un autore e quindi è bello essere qui, insomma, tra virgolette, da protagonista. Ho scritto questo libro, appunto I bellissimi in cucina, 220 ricette da Oscar, quindi già questo dà un po' il titolo che unisco il cinema, che è un po' il mio lavoro, in quanto I bellissimi ci sono da tanti anni, e la cucina che è la mia passione e poi tra loro due c'è comunque una relazione di emozioni, di gusto, di tatto. Ma credo sia divertente per uomini e per donne, perché chi non sa cucinare può leggersi comunque delle notizie su vecchi film o film importanti, la scena da cui è tratta poi la ricetta e poi la ricetta. Ecco, se ne dovessi ricordare qualcuna che ti è rimasta particolarmente impressa o che è stata particolarmente topica nella storia del cinema, quale citeresti? Ovviamente in Macaroni di Mometa Magno, di Alberto Sordi, di Alberto Nazionale, da dove appunto è in bianco e nero, quindi lì è anche più difficile. Noi abbiamo visti veramente questi film, tutti, aiutati da altre persone, se no impossibile, e da lì abbiamo fermato i frame proprio sui piatti e abbiamo cercato di capire quali erano. In quel caso, in bianco e nero, quindi abbiamo fatto le due versioni, sia in maccheroni in un certo modo, sia bianchi che rossi. Quelli poi, tanti film, non so, film più recenti da Forrest Gump, dove ci sono i gamberi stufati, alle frittelline di Via Colvento, ai film Colazione da Tiffany, dove mangia il pan o il cioccolà, oppure cioccolà, oppure anche per bambini, non so, da Piavano Polpette, Harry Potter, tante piccole cose, che un po' è nata anche da lì, d'idea proprio da mio bambino, che vedeva i cartoni e voleva le polpette. E quindi l'attenzione, diciamo, ho sempre fatto caso, devo dire, nei film, che ci sono sempre molti momenti mangerecci, a parte in Beautiful, che lì non mangiano mai, però nei film quelli veri non mangiano mai. In altri film c'è sempre questo momento dove succede qualcosa, o si innamorano, discutono, vanno via, non so, c'è anche, che è molto carino, lì abbiamo studiato proprio il sandwich di Harry, ti presento selli, e voglio dire, quello dovevamo rifarlo, non l'ho provato però ancora. Ecco, stasera sul palco di Cortina Incontra, oltre a parlare di cibo, insomma, contestualmente, si cucinerà anche. Ecco, e quindi volevo chiederti proprio come cuoca, come ti senti, che voto ti daresti? Ma guarda, credo un bel voto, perché innanzitutto mi piace, mi è sempre piaciuto, mi diverte molto andare a fare la spesa, mi rilassa andare nei supermercati, finito il lavoro, e quindi mi piace anche inventare un po' delle ricette, poi il bambino è stimolante, perché comunque adesso ha i suoi gusti, tre anni e mezzo, non è che gli posso propinare le pappette e me le tira dietro, quindi ti inventi anche delle cose più sfiziose, mi piace. Quest'anno il filone della cucina a livello letterario è stato sicuramente vincente, e ci sono stati tantissimi libri dedicati a questo argomento. Quale credi che sia l'argomento di maggior interesse? Perché questo filone è stato così vincente, ha suscitato così tanto interesse? Sì, ho visto, cioè i primi in classifica al posto di autori, voglio dire. Ma secondo me perché è rilassante, perché uno ha tanti problemi durante il giorno, e quindi sia le trasmissioni televisive sia i libri sono quelle cose che hai in cucino sul comodino, che così ti svuotano, no? E poi nonostante si dica delle diete, non le diete, la cucina, soprattutto la cucina italiana, e quindi la dieta mediterranea, è sempre molto sentita. Se poi, unito a questo, si unisce anche una buona alimentazione, quindi delle buone materie prime, è anche un piacere, perché oltre a dare un piacere al palato, è anche un piacere poi per il fisico, per lo star bene. Ecco, questo è importante, sì. Un'ultima domanda. Quest'anno Cortina incontra, festeggia i dieci anni, quindi questo format ideato da Iole e Derrico Cisnetto, che ha come punto di partenza il divieto di urlare. Che effetto ti fa essere qui e che cosa ne pensi di questa idea che hanno avuto dieci anni fa Enrico Iole e Cisnetto? Divieto di urlare? Questa non la sapevo, però io sono assolutamente d'accordo. La televisione che ho sempre fatto io, sono contenta che piano piano sta ritornando, e quindi con i toni bassi, non c'è nessun bisogno, perché manda in confusione e nessuno capisce nulla. e quindi lo trovo una bella cosa e spero che possano seguire in tanti. Ecco, io assolutamente sono la prima. Grazie a voi. Grazie mille. Buon compleanno. Grazie. Grazie.